I vigili del fuoco del distaccamento di Lentini nella mattinata di oggi sono intervenuti in un agrumeto ubicato in via Archimede e quindi nel cuore del centro storico del paese per liberare un cagnolino che era rimasto incastrato tra le pale di un figo d'India. A fare scattare i soccorsi è stato il continuo abbaiare del cagnolino che ha attirato l'attenzione degli abitanti della zona che a sua volta non hanno esitato a richiedere l'intervento dei pompieri. Il cagnolino questa volta dopo aver acquistato la libertà oltre a di abbaiare ha fatto oscillare la sua coda da sinistra verso destra come segno di felicità.